me lo mandassi sto cazzo di video si parla in italiano in italiano corretto e scandito non te l'ho inviato ignorante piano corretto scandito zio aliprando vaffanculo scurire che scurire esamino esamino l'ombrella stava effettuando ricerche su questi fiori ci sono i fiori scusa stiamo a finire avete appena visto l'ultimo episodio di rocket league ci dispiace ma ritorneremo più forti di prima giusto? giustamente c'è stato un po' di magnum ah no eh oh qua leggete voi vi mettete la pausa voi non sappiamo già tutto a memoria giusto? ad esempio cosa è successo il 23 marzo? me lo dica come che cazzo? dillo dai direi un travolta che ti faccio vedere a chi le fa ma non a lei a te a te a te incapace ignorante deficiente anche buzzurra che non è neanche capace di aprire le porte stupido idioto va dentro qua andiamo dentro qua spacca spacca con pane alba qua leggete voi vi mettete paolo il 19 agosto che brutto giorno che giorno magnifico sicuramente il 20 agosto non è successo infatti si salta subito a settembre che giorno magnifico qui c'è un altro foglio da far leggere dove? ma anche qua c'era uno scaffale porto documenti e bozzetti dove dove dove? c'erano granati incendiari ci fassi esamina dove è? ah non accendi il computer lo accendo io non c'è un po' di mettere un qualche codice boh 1928 ciao 16 novembre ehi tengo d'occhio la situazione io non ti preoccupare ehi c'è anche un po' fosco qua c'è un altro foglio no ah era questo sì probabilmente è meglio così letto tutto ah ok era il 1998 era sì ok eschi eschi come? grande paura qui c'è un altro foglio dove? se non lo vedi se non ci sta lui solo una scatola vuota ma ti è te ah beh bella brava che oh guà c'è cosa che serve soprattutto a me andiamo asa sto a caricare le mie munizioni io questo qui va avanti non so come ma potrebbero utilizzarli per questo è la facility da il piccolo adesso centro non mi sa che paura un trampo ma chi sei? ehi cieli accendi Tresed Day 19 febbraio virus pregenitor se andiamo avanti perchè avevamo già l'abbiamo già fatto tutto questo le volte accendi io c'endo sempre il computer berbe tra l fi questi flè auri ciao e va bene la cartucchia è solo tu ok ma dove lei perchè io non la vedo cosa non vedi non ti vedevo te si si cieco ah no che no bruttissimi ricorda gravissimo qua scappiamo eh o c'era da ucciderli no no c'era da scappare ok o si scappa no niente ragazzi non è non bocca cosa stai a vinta perché stai a scappare è la prima volta che stai giocando non era mica qua no apra lei per colpo qui che sono stanco io tengo d'occhio la situazione aspetta che mi prendo un'arma mamma mia come tengo d'occhio la situazione mi scapperebbe anche quasi qualche colpo ha bisogno di una supposta e l'è permesso avanti esamina mi è riuscito a esami sembra sia stato sbranato da delle belve non è un bel modo di andarsene non tirerei tanto io quella leva non lo so perché ma mi ne voglio di prendere in mano queste io tiro eh tira tira come si chiamavano quegli brobi lì non mi viene sentito i cani in nebo no i cani il boma bonbon 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 broma correct bonbon Mcdonald c'è anche l'hamburger alla nutella dai prendi il coltello dai prendi il coltello così spacca anche quello per poter via perchè se no non riesco a dormire la notte grazie molto gentile ah chi ce stanno le bestie si io io incomincerai a scappare perchè quanti sono grossi direttamente da videogiochi strambi ma io quasi quasi aspetta aspetta no è goduto sotto fallo fuori fallo fuori bravo bravo ce n'era un altro dentro eh si montante mi è venuta fuori una combo e vaffanculo scappiamo no dove però chi si ricorda ah bisogna andare dentro mi sa affanculo ma ci penso mi ci penso boom vai dentro ah c'è la girata vai 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 io ho due incredibilissimi colpi di coso boom aio liberati 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 da male ah però questo anche c'è manca me adesso boom vai scappiamo vai è a te boom basta no 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 entrati apri via un'erba verde ma non è che entrano anche di qua su entro non è chiusa la porta come non ho chiuso entro qua prendo io unisci le cose sono pieni come sono pieni non è che entrano anche qua spero a meno che abbia si io lo prendo qui però chi lo prende prendo te lo prendo io tu sei già pieno di ciao di mitraglie eh però c'è uno piccolo problema mo come cacchio faccio a a prendere ah esatto aspetta lancio io una granata così dopo mi passi l'erba russa poi va fuori eh ma va va fuori a tirarla incendiaria che c'è sta qua dobloni dove sono dove sono eh vai va a tirargliela addosso no c'ho spazio c'ho spazio vieni 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 e vengo fuori io e vieni dentro te non lo so aspetta allora cioè te sei fermo ti do l'erba verde esatto e io la con la connubio va là combina bam usa ooooh proviamo la nuova weapon come tre e quindi ti inculerò anche le munizioni ma ti spacco la faccia ma ti spacco la faccia io ti spacco poi che cazzo di armai la capo che consegno che vuol consegnarmi no c'è mano alla granata ah ok andiamo bella figliola apri sta a port apri aprimi sta a port io scappo eh io non ammazzo fuga perché ci sarebbe da ammazzare perché noi se si ricorda ammazzavamo vieni vieni apri apri non c'è mica una trappola qua no no fuga ammazzavamo perché dopo caccavano fuori di varie cose spacca spacca lì arrivo aiuto chiama l'ascensore esamina eh perché bisogna aspettare mi sa sti cazzo di ascensori che ci mettono sempre qui c'è un cartuccio da un'altra tacci mia non c'è anche qualche bomba si tira 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 non si faccia brevi eh mo c'è sta a nevia non ti conviene tanto andare alla fonte fuga fuga no non prendo io vai vai via scendi mamma mia non c'è mica un cappetto sotto no no mi sa perso questo